grazie a pace e buongiorno a tutti sono mario archiò 365 respiri il mio libro di una perla di saggezza al giorno per 365 giorni una collana di quattro libri questo è il primo che finiremo a presto e poi c'è il secondo è stato anche l'ho finito il terzo è in fase di di creazione il quarto pregate con me che riesca a finirlo prima che torna Gesù bene oggi mese 3 giorno 17 leggiamo proverbi 9 7 8 e 9 chi corregge il beffardo si attira insulti chi riprende l'empio riceve affronto non riprendere il beffardo per evitare che ti odi riprendi il saggio e ti amerà istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai insegna al giusto e accrescerà il suo sapere arriva un momento nella tua vita in cui devi decidere se le persone con cui hai a che fare sono sagge o invece vogliono solo farti credere di esserlo la parola ebraica che traduce beffardo e lift e ha qualcosa che fare principalmente con la bocca i beffardi usano la bocca per tentare di convincerti della loro saggezza il risultato di tale inganno è molto molto dannoso per te perché quando alla fine scoprirai che tutte le promesse tutte le assicurazioni tutti gli impegni non sono altro che un parlare avanvera e cercherai di correre di correre ai ripari salomone dice che ne uscirai umiliato e offeso però ricorda il beffardo non è il coniuge sincero che combatte con un problema l'impiegato corretto che onestamente non riesce a risolvere il suo compito il figlio o la figlia che ci hanno provato ma hanno fallito il beffardo è colui che usa la sua bocca per farti credere che può fare qualcosa mentre sa da principio che non potrà e non vorrà mai farlo e qui è dove io sono convinto che stia la differenza tra un beffardo e un saggio non nelle sue doti ma nella sua capacità di correggersi uno può commettere un errore essere scoperto e immediatamente cercare di scaricare la colpa su qualcun altro quella bocca comincerà ad accampare scuse accuse e pretese mai mai ammetterà di aver bisogno di insegnamenti l'uomo o la donna saggi invece potranno fare lo stesso errore venire scoperti allo stesso modo e essere da subito disposti ad ascoltare imparare e cambiare il primo è un problema il secondo è un patrimonio la chiave per per distinguere gli uni dagli altri la loro reazione alle correzioni uno ascolterà l'altro no semplice il tuo compito per oggi oggi tenterò di individuare tutti i beffardi nella mia organizzazione famiglia circolo di amicizie e sarò guardingo in loro presenza domani